Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di una cosa dove io vado a fare la speda qui a Dublino. Qui a Dublino io vado solo a tre negozi che è Tesco, Aldi, Lidl. Allora, vi spiego perché vado a questi tre negozi, perché sono i meno cari qui a Dublino. C'è il Centra, che è molto caro, per i miei gusti è molto caro. C'è la Spar, ci sono andata due volte, ma per comprare due cose. Mi trovo bene con la Spar soltanto per le zuppe, che costano 89 centesimi, adesso è tutto caro. Con la Lidl mi trovo benissimo per il pane, poi le offerte che fa sulla frutta e la verdura. Aldi mi trovo bene per le offerte che fa. Molto spesso le persone mi chiedono se, essendo intollerante, la mia spesa possa di essere piccola. I prezzi si salgono. In realtà io non mando proprio tutto, io non prendo latte, cioè io non prendo latte, quindi prendo caffè. Quindi io prendo caffè e ho tè, quindi ho caffeina o teina. Latte non lo bevo perché ho provato a bere latte di soia e non mi piace. Latte di riso e non mi piace. Allora, a questo punto ho detto prendo il tè o il caffè. Quindi sono due cose. La mia colazione, come ho sempre detto, è molto variata perché ho prendo il succo. Eh, non ho il succo. Ho il succo, il caffè o il tè o i biscotti o con il pane. Quindi è molto variata. Quindi non ho, come si può dire, non ho tanto difficoltà per quanto riguarda la colazione. La difficoltà viene quando devo fare pranzo e cena perché a me piacciono moltissime cose come formaggio, mozzarella, ricotta, queste cose qua. E non me le posso mangiare quindi un pochettino faccio storcio il naso però. Però se ho che mi fanno male, evito. Evito, meglio. Quindi per me la spesa, non vado proprio a un negozio proprio specifico che fa solo cose per chi è intollerante. Perché se no la spesa mi salirebbe, così, salirebbe alle stelle. Quindi io non vado a un negozio specifico di intolleranza. Non prendo ciò che è tipo latte, non prendo latte nei suoi derivati e sto bene così. Non sto male per niente, quindi buon per me. Quindi questi sono i negozi di cui io vado a fare la spesa. Vado a fare la spesa e mi trovo bene. Però se dovete venire qui a Dublino vi consiglio la Lidl, Aldi e Tesco. Però sono le mie opinioni personali, alziamo la mano in cielo e dico sono le mie personali. Comunque ora vi lascio, vi lascio tantissimi saluti. Ciao!